ragazzi oggi si è presentato un mercedes gl a x 256 come si può notare non aveva né apple carplay e ne android auto con un po di lavoro gli abbiamo implementato questo sistema senza modificare nulla dell'autovettore rimane da tutta l'originalità come state vedendo nel video andiamo alla sezione telefono e come già si può notare già esce la sezione android auto apple carplay non resta altro che procedere nell'inserimento del cavetto nell'apposito adattore usb lo inseriamo nel telefono e in un secondo ecco l'attivazione dell'apparecchio senza alcuno sforzo come si può notare abbastanza fluido e rimane tutto all'originità della mercedes usando anche il joystick centrale in questo è possibile farlo in tutte le mercedes del 2016 2018 più o meno qualsiasi informazione basta contattarci all'apposito contatto su instagram o altre piattaforme